Allora, fai finta che mi sono in progressione, ho di fai finta, eh, non è che dovessi far tutto, sono in progressione, così, no? Voi su, provo a tirar quella corda, Andrìo, ehi, provo a tirarla, sì, ma vai un po' più basso, se no te la t'arriva in testa la picotta. Allora, vedi? Allora, cosa succede? Cosa succede? Che mi va un su, questa è la salita in conserva della guida, perché? Perché la guida non la vuol più un barzocco cliente che si butta andrìo, capito? Slipega. E allora, la ghettaca stia geggi qua, vedete? Stia geggi qua, come funziona, bom, andiamo, fa scorrere la corda, fa scorrere, mi va un su, uno ogni tango e metto dentro di quei ganci lì, vedete, tirate via, Franco? Con il gancio lì, il blocco? Parà, parà, non viene mai.